La tradizione musicale della Sardegna che naturalmente vi invitiamo a scoprire in loco in Sardegna ci sono tante tradizioni diverse sia come costumi questi sono per esempio i costumi del nostro paese il paese di Bitti ha dei bellissimi costumi maschili e naturalmente quelli femminili sono ancora più ricchi di ricami, di stoffe pregiate e soprattutto abbelliti dai gioielli questo per esempio è il costume del matrimonio poi ci sono diverse marianette, diverse fogge facciamo un altro canto religioso della settimana santa non mi giame das Maria sino mamma de Dolores quindi sempre della Madonna della Doloretta non mi giame das Maria sino mamma de Dolores non mi giame das Maria sino mamma de Dolores non mi giame das Maria sino mamma de Dolores io mi giame das Maria madem Lima il borde il borde che perdosa, mensurvida, procurpa dei peccatori. No mi chame d'armaria, sin amnama de dolore. No mi chame d'armaria, sin amnama de dolore. O che los han malevratos come entero morbobides, sin e su segno reggides, mano e pedes incravados, sono su deos impiñados a reinventare i dolores. No mi chame d'armaria, sin amnama de dolore. No mi chame d'armaria, sin amnama de dolore. No mi chame d'armaria, sin amnama de dolore. No mi llame d'armaria, sino mamma de dolore. No mi llame d'armaria, sino mamma de dolore. Grazie.